Prendo atto del risultato elettorale negativo sia per il PD che per la mia candidatura all'uninominale nel territorio provinciale di Ragusa. Questa presa d'atto è un riconoscimento del diritto dei cittadini a scegliere autonomamente le proprie rappresentanze politiche nel rispetto della Costituzione e delle leggi. Lo dice la senatrice uscente del PD, Venerina Padua, a commento dei risultati elettorali. Evidentemente aggiunge il costante lavoro parlamentare svolto per il riconoscimento dei diritti e della tutela dei bisogni di quanti sono stati oggetto di attenzione e di interventi legislativi nei settori importanti della tutela della salute, del diritto al rimborso delle somme dovute dallo Stato e relative al sisma del 90, della difesa di imprese agricole e dei lavoratori agricoli rispetto a tassazioni errate di ogni aspetto della vita personale e sociale, non hanno trovato la comprensione e il riscontro di quanti di tali diritti sono oggi titolari e beneficiari. Ma il compito di senatrice della Repubblica, continua la Padua, non ha finalità di riconoscimento pubblico, chi assume il compito di rappresentare in Parlamento i diritti, i bisogni e gli obblighi della singola persona e della collettività, ha solo il dovere di produrre leggi che rispondano concretamente a tali bisogni e diritti dei cittadini della Repubblica italiana, senza pretendere risposte di alcun genere. Ritengo di avere adempiuto agli obblighi propri derivanti dall'avvenuta elezione senatoriale della scorsa legislatura, continua Padua. Spetta adesso ai candidati, eletti in entrambi i rami del Parlamento, la responsabilità della conduzione e della gestione della cosa pubblica. In questo senso il mio pieno sostegno morale a quanti sono investiti oggi di questo compito, augurandomi che il bene pubblico continui ad essere il fondamento e la finalità di chi oggi è stato indicato dagli elettori. La Padua ringrazia poi quanti hanno sostenuto lei e il PD, che definisce il mio unico riferimento politico e del quale continuo ad essere una dirigente nazionale e locale. Adesso conclude, c'è da rimboccarsi le maniche e ricostruire un'area politica ampia e inclusiva.